Angela Merkel, David Cameron, François Hollande. È una partita che si gioca a tre, quella sul bilancio europeo. I leader di Germania, Gran Bretagna e Francia sono arrivati al vertice europeo ostentando prudenza sulla possibilità di un accordo, ma secondo il ministro degli affari europei finlandese si tratta soprattutto di pretattica. Non si sa mai in questi vertici può saltar fuori qualcosa di inaspettato, alcuni possono restare frustrati, altri possono bloccare, ma penso che sia ora di trovare un accordo sul bilancio, dopo tutto si parla dell'1% del PIL dell'Unione Europea. Anche l'Italia potrebbe riservare sorprese. In piena campagna elettorale, il premier Mario Monti deve tornare in patria con un accordo convincente, difenderà soprattutto l'agricoltura e i fondi regionali. Il gioco consiste nel mantenere lo status quo con piccoli cambiamenti, spiega l'economista André Sapir, così ogni leader può rientrare a casa e cantare vittoria, sia per l'ammontare del contributo, sia per i fondi che riceve.